Salve a tutti ragazzi, sono Bertray, benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qui, dopo mille anni, finalmente vi porto i meme su JoJo. Dopo tutto questo tempo un like. Vi ricordo, hype in descrizione, col mio link e il mio codice, 10 euro alla prima ricarica e aiutate anche me. Quindi, pensateci. Cioè, meme morti da anni. Riii. Ma che cazzo? Ma che cagata. Sei religioso? Vorrei farti conoscere la mia religione. Qual è la tua religione? Oh no, cos'è sta roba? Ma perché ci sono delle ragazzine? Ma che cazzo è? Poi mi chiudo il canale con queste cose. URUAA! Perché? Lero, 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 lero. Raga, sono bellissimi. Sono bellissimi anche se non conoscete JoJo, ve lo assicuro. Oh no. So già dove andrà a finire. Diventi, diventi uno stando. Boingo, boingo! Brothers! Brothers! Cosa? Brothers! Nani? Omae wa... Mo Shinderu! Ok, questo video diventerà vietato ai minori di 18 anni. Ciao, salutate tutti. Nani? Cos'è? È il Pillar Man! Apprezzo tantissimo. Questo sarà l'episodio più weeb di qualunque cosa che ci sarà mai sul mio canale. Quindi godetevelo finché esiste. Me lo copi-strikeranno in tutti i modi. Cosa? Ok! Ok! Perché? Oh mio Dio, la carta della G. Che bello che è questo anime. Se non avete visto Pop Team Epic non siete nulla. I bet you're still thinking about JoJo. Devo riguardarmi tutto Pop Team Epic. Tutto. Devo. URA! Look, it's a bird! It's a plane! It's RODARODA! It's a bird! It's a plane! It's RODARODA! Little pigs. Little pigs. Little pigs. Let me come in. Ma che cazzo? Cos'è sta roba? Here's Johnny! Here's Johnny! Shining versione Animu. Nani? Da-na-na-na. Tan-na-na-na. 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 Eh 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 eh. Cos'è? Ma come sono sti mashup di merda? Eh ma quello è un tizio vestito poi da... Da maid. Ma perché i giapponesi sono malati in culo? Ecco perché non guardo certe cose. Lasciamo perdere, ragazzi. Qui qui sento già proprio le malattie venere. A distanza. Ma è un tizio o una tizia? Non si capisce mai. Cazzo di giappo cinesi. Ma andate via. Di chi sarà questa voce tenera? Con oddio da! Lo sappiamo così! Giù, giù! Giù, giù! Rero, 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 rero. Giù, giù. Rero, 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 rero. Lo sappiamo che sta arrivando. No. Cosa? Che sporti hanno usato. Se non vanno culo? Metto il mio cazzo dentro tua madre? Minchia, qui il major spoiler, raga E non me ne ricordavo così i cartoni di Cartoon Network Sono terrificanti Ma che cazzo Jojo Star Platinum What? Cos'è sta roba? Ma che figata sta animazione, raga ditemi cos'è che voglio vederlo What? No Oh no It's a War Oh Dio È buono, è un orrore Subaru, è un'auto Emilia Zawordo Ma perché? Ma che senso ha? Non fa neanche ridere questo Tonk Questo è bellissimo Ehi, i mashup, i mashup, signori Mahiro Academia e Jojo Vota, 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 ne sapevo Raga Cosa mi sono perso finora Con i Jojo Zappeli Best personaggio solo per il cappello Ricordi quante briciole di pane hai mangiato Cattiveria Mamma mia, gli ha dabbato in testa Un cane e un uccello che giocano insieme No No, così Ah, raga Oh no Ma che cosa Ma perché? Ma perché? Kakyoin Eh, l'altro mashup con l'attacco dei giganti, raga Spoiler, lui è un gigante Ok, ve l'ho detto, odiatemi Ben pensato anche questo, devo essere onesto Ben pensato anche questo, devo essere onesto Cosa? Cosa cazzo? Ah, cos'è questa cosa cringe, raga Cos'è? Come on, no Scusate Oh yeah, le musichine English God Dio Cono Dio Ma basta, povero Kakyoin Ecco Vediamo un po' Quella sarà la cagata Ma raga, quanti meme morti ci sono qui dentro? Ma sono commosso Minchiai pillar man Minchiai pillar man Oh mio Dio Oh mio Dio Non sapevo che esistesse il video di questo meme Ok, ok 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 Ancora le onde Headshot Insegnante io Fai i compiti No Ok 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 Ma per Motore a tedesco Motore a tedesco Scindere Nani? Omae wa mu scindere Ah, la roba dei coltelli Sempre memata All'inverosimile Muda, 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 muda Muda Ma che Oh no Cosa? Ma che cazzo sto vedendo? Nigeru E' uguale Ma che cazzo? Per il video di oggi è tutto Mi raccomando se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Me lo dovete perché mi avete rotto il cazzo Con questi meme sul Jojo All'inverosimile Quindi Un like Mi raccomando Hype Fatelo Mi aiutate Aiutate voi stessi E per il video di oggi è tutto Un saluto alberto E ci si becca al prossimo video Bella lì Che bolloneDoug Mi raccomando se mi piace E sceare il cazzo Per il video di oggi è tutto Mi raccomando se mi piace No Grazie.